Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo fantastico video dei due nerdini sul tubo Io sono Lau e appunto oggi siamo qui a parlare di roba abbastanza nerd, abbastanza ambito manga Ebbene sì ragazzi, come avete saputo in questo periodo, in queste settimane Anche se purtroppo alcuni video sono saltati a causa dei problemi personali Diciamo che ci siamo rimasti molto molto informati in ciò che sta uscendo di variant, di scene particolare eccetera Partiamo subito Le informazioni diciamo non sono tantissime, però sono abbastanza carine e alcune molto interessanti Partirei da quella più semplice Ovvero che in questa settimana qui chi si recava alla Petrinelli, qualsiasi Petrinelli d'Italia Acquistando due volumi o più di One Piece avrebbe preso in omaggio la borsina Diciamo la sacchettina, la tracollina, ovviamente vi metterò un'immagine qui E' stata data in omaggio questa sacchettina Un omaggio appunto molto carino che però ha creato abbastanza scalpore Infatti su Facebook, soprattutto sui social, la gente si è ribellata a Star Comics, la quasi maledetta Per questa collaborazione Una collaborazione molto semplice che ha fatto intendere che sia a Petrinelli e in parte anche a Mondodori Si stanno realmente avvicinando al mondo dei manga Poi, in generale al mondo giapponese Poi che sia solamente per marketing o per reali interessi Questo poco importa diciamo, parliamoci chiaro Il discorso appunto è che la gente ha cominciato a dire che Star Comics ha iniziato a fare le collaborazioni solo con le librerie E mettono a parte le fumetterie E anche delle persone nei commenti, con i salari di fumetterie Hanno cominciato a commentare, da parentesi per farti anche loro una minima pubblicità del loro negozio Contro Star Comics Dicendo che, ah voi adesso già siamo in periodo di pandemia Già ci sono mille problemi, eccetera Ora vi ci mettevi pure voi a dare il lavoro, tra virgolette, ad altre, alle grandi aziende, no? Cosa che personalmente io non condivido assolutamente Nel senso che Star Comics, come appunto ha risposto lei stessa tra i commenti O comunque sia con un nuovo post Non ha tolto niente a nessuno Nel senso che se per una volta in tutto l'anno ha fatto una collaborazione Che non sia proprio con le fumetterie Non vedo cosa ci sia di sbagliato Effettivamente Star Comics, come tutte le altre case editrici Attraverso i campfire, attraverso edizioni particolari Solo per fumetterie, addirittura a volte escludendo anche le licole, eccetera O comunque sia essendo aperte anche le licole, eccetera Ha dato loro clienti in più togliendo le librerie Anche se sappiamo, appunto, ripetiamo che magari la libreria nasce più per i libri E non tanto più per i libri Però, ad oggi, finalmente, questo mito della libreria di una cosa Come tenere un'altra sta un po' morendo Direi anche finalmente Comunque, detto ciò, ragazzi Io e Ryuk siamo riusciti a trovare una feltrinelli Che avesse dei numeri decenti, diciamo, di One Piece Dico decenti perché, tipo la feltrinelli di Prato Non aveva nulla, 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 nulla Solamente i anime comics E quindi, tipo, 20-30 euro per due volumetti Per una sacchettina molto semplice Un po' troppo esagerato, diciamo Se no, appunto, c'erano alcuni numeri I primi numeri che, però, appunto, già non avevamo Quindi, niente Sono tutti ad andare a Pistoia a recuperarla E lì abbiamo comprato due volumi Che, guarda caso, erano i volumi clou Per quanto riguarda la barba bianca E, diciamola così Dato, ragazzi, poi vorrei parlare, invece Del Detective Conan Finalmente, in Giappone Siamo arrivati al numero 100 Numero 100 che, magari, se riesco Vi metto anche qualche immaginina qui sparta Per farvi vedere come sarà il volume di per sé Sinceramente mi aspettavo qualcosina di meglio Carino, ma fin lì La cosa, invece, carina di Detective Conan Stava, invece, ciò che riguarda la rivista stessa Ovvero, il Publication Sunday La rivista, appunto, in cui viene pubblicato Detective Conan Infatti, con il numero 46 e 47 Se li uniamo, viene fuori un'immagine intera Come un po' quella di One Piece Per il numero 100 L'idea è stata praticamente copiata Ecco, questa, magari, è molto, molto più carina come idea Al contrario, ripeto, del volume 100 di per sé Altre cose poi da dirvi L'ho lasciato per ultimo Una chicchia, diciamo, ovvero La Variant cover di Tokyo Revengers La prima vera cover Di Variant In Italia In po' le parole In più, da quanto ho capito, è anche Nuoco, è edita per la prima volta, in realtà Ovvero che non è Preta da un giapponese Vi spiego meglio Praticamente Questa Variant era accessibile Solamente a un numero molto limitato di fumetterie Che partecipavano all'Alf Ovvero, in poche parole, un'associazione Da quanto ho capito Un'associazione di, appunto, fumetterie Principalmente fumetterie, non penso, librerie Che collaborano fra di loro Per, appunto, portare in alto Il mondo, appunto, fumettistico, eccetera E di conseguenza, da questa collaborazione di Alf Con J-Pop È nata questa Variant Ripeto, è una Variant che è andata a Ruba Che era al posto di 6,50€ Se non erro Ovviamente, ragazzi, tutto va bene Ci arriverà anche a noi Quindi lo vedrete successivamente In un manga acquisti Detto ciò, ragazzi Vi consiglio sempre a tenere Occhi aperti sul nostro Instagram Perché sul nostro Instagram Ogni volta che c'è una novità di questo genere Anche di prodotti che andranno a Ruba Lo pubblichiamo subito Facciamo un post E pubblichiamo tutto il nostro profilo Quindi mi raccomando, ragazzi Seguirci su Instagram Due giardini sul tubo E trovate tutto qui sotto E niente Penso di avervi detto tutto In questo video e aggiornamento Ci vediamo presto Con un nuovo video Bene, ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.